Al termine della giornata mondiale della gioventù ci ritroviamo per fare il punto della situazione soprattutto alla luce delle dichiarazioni che il Santo Padre ha fatto sul volo di ritorno dal Portogallo. Dichiarazioni che come al solito lasciano sconcertati e soprattutto mettono in risalto le contraddizioni di questo pontificato. La giornata mondiale della gioventù è stato un evento molto molto positivo certo ci sono stati problemi organizzativi e quant'altro ma diciamo la macchina ha funzionato ed è uno degli eventi soprattutto pensando alle ultime giornate mondiali della gioventù che è stato gestito meglio proprio grazie al lavoro peraltro di tantissimi volontari che hanno servito con ovviamente devozione e anche dedizione questo evento e la chiesa che è in Portogallo. Le evidenze sono tantissime pensare ad esempio all'adorazione eucaristica alla veglia che abbiamo vissuto durante la GMG, la veglia quella presieduta dal Santo Padre ma anche i momenti di adorazione e di veglia che sono stati fatti dalle singole comunità. Moltissime comunità in questa soprattutto nella veglia abbiamo avuto la testimonianza di tantissimi sacerdoti che ci riferivano come i loro ragazzi si siano messi a fare adorazione a seguire alcuni addirittura a recitare il rosario che per i giovani solitamente è una preghiera un po' noiosa se non ne capiscono il senso soprattutto se non gli viene spiegato il senso di questa preghiera e quindi gli aspetti positivi di questo viaggio sono tantissimi e anche alcune catechesi che sono state pronunciate sono state veramente molto molto interessanti soprattutto i vescovi francesi hanno fatto delle catechesi veramente molto belle e hanno dato la possibilità anche ai giovani di riflettere, ruminare come si suol dire quelle parole alla luce della parola per tutto il tragitto pensiamo ad esempio quando abbiamo raggiunto la la sede il parco dove ha avuto luogo la veglia e tutta la notte ha ospitato un milione e mezzo di persone i giovani sia con i loro sacerdoti sia con i loro referenti hanno veramente riflettuto sulle parole pronunciate durante la catechesi anche perché qualcuno per fortuna si è distaccato non faremo i nomi perché sennò la diocesi domani gli viene tolta si sono discostati da quello che era il diktat no questi temi tipo l'ecologia e quant'altro che sinceramente ai ragazzi importano importa nulla soprattutto trattati in un determinato modo perché giustamente se i giovani vogliono sentir parlare di ecologia vanno altrove evidentemente qui qualcuno voleva sentir parlare di gesù cristo cosa che nei discorsi ufficiali pronunciati anche dal santo padre è comparso ogni tanto come una figura che ogni tanto arrivava fino arrivare a sentirci dire che bisogna surfare l'amore se qualcuno capisce qual è il senso del surf stare sopra piuttosto gesù cristo forse ci ha insegnato ad entrare ma va bene la questione che voglio affrontare qui quindi ribadendo che questo evento è stato un evento positivo soprattutto per i giovani e grazie ai giovani la questione che vogliamo affrontare qui sono le parole del santo padre durante il volo apostolico e come direbbe qualcuno siamo qui ancora qui un'altra l'altra domanda la quarta viene da anita hirschbeck dell'agenzia di stampa cattolica tedesca prego anita buonasera santo padre a lisbona ci ha detto che nella chiesa c'è spazio per tutti 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 la chiesa è aperta per tutti ma allo stesso tempo non tutti hanno gli stessi diritti e opportunità nel senso che per esempio donne e omosessuali non possono ricevere tutti i sacramenti santo padre come spiega lei questa incoerenza tra chiesa aperta e chiesa non uguale per tutti grazie lei mi fa una domanda su due punti di vista diverso la chiesa è aperta per tutti poi ci sono legislazioni che regolano la vita dentro della chiesa e uno che dentro e e secondo la legislazione quella un po semplificata questo che lei dice è una forma molto semplista di dire non può fare dei sacramenti e questo non vuol dire che sia chiuso ognuno incontra dio per la propria via dentro della chiesa e la chiesa è madre e guida ognuno per la sua strada per questo a me non piace dire vengono tutti ma tu e questo tu l'altro tutti poi ognuno nella preghiera nel dialogo interiore nel dialogo pastorale con gli agenti di pastorale cerca il modo di andare avanti per questo fare una una questione perché gli omosessuali no tutti e il signore è chiaro è ammalati e sani vecchi e giovani brutti e bene buoni e cattivi anche il morale che è brutto ma il morale pure c'è come una come uno sguardo che non capisce questa inserzione alla chiesa come madre e si la pensa come una specie di di ditta che per entrare tu devi fare questo o lo fai di questo modo e non dell'altro un'altra cosa è la ministerialità nella chiesa che è il modo di portare avanti il grege e una delle cose importanti è la pazienza nella ministerialità accompagnare le persone passo a passo nella sua via di maturazione ognuno di noi ha questa esperienza che la chiesa madre ci ha accompagnato e ci accompagna nella propria via di maturazione a me non piace le riduzioni questo non è ecclesiale questo è aggnostico no e poi un'eresia aggnostica che oggi è un po alla moda no un certo aggnostismo che riduce la realtà ecclesiale a idee e questo non aiuta la chiesa e madre riceve tutti e ognuno fa la sua strada dentro della chiesa senza pubblicità e questo è molto importante grazie per il coraggio di fare questa grazie la giornalista di kna ha avuto grande coraggio questo è vero infatti il papa gli ha detto grazie per questo tuo coraggio peccato però che non ha avuto la possibilità di ricevere una risposta che avesse un senso lasciando il fatto che va bene la giornalista una laica praticamente mette a confronto cioè mette insieme due questioni ovvero le donne e gli omosessuali due cose completamente diverse qui dobbiamo fare riferimento a una questione cioè non si sta parlando dell'accesso al sacramento ad esempio al sacramento dell'eucarestia come non si parla del battesimo o di quant'altro si può parlare magari del matrimonio ok ma chiaramente c'è una questione sottintesa qui ovvero il sacerdozio ministeriale cioè mettere insieme e questo credo potrà smentirmi la giornalista ma anche la risposta del santo padre verte verso questo 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 orientamento chiaramente è sottointeso che qui si sta parlando del sacramento dell'ordine e appunto la giornalista sbaglia nel mettere a confronto l'ordinazione delle donne e l'ordinazione degli omosessuali sono due cose completamente diverse e francesco non riesce a dare una risposta che abbia un senso innanzitutto non spiega appunto perché meno male peraltro che non c'è non è ripartito con una certa pantomima ma avrebbe dovuto spiegare chiaramente che le due questioni sono ben diverse cioè innanzitutto non è come dice lui che ci sono delle leggi e queste leggi vanno rispettate perché giustamente il laico o comunque chiunque ti può rispondere dicendoti le leggi si cambiano soprattutto tu durante il tuo pontificato ne hai cambiate a iosa quindi non si capisce perché tu non lo possa cambiare diverso invece è la risposta che sarebbe dovuta arrivare dal papa ovvero non è una questione che è in mano a noi cioè questa è la risposta completamente opposta a quella che ha dato Giovanni Paolo II Giovanni Paolo II ribadito poi da Ratzinger in tantissime occasioni lo ha detto più volte è una cosa di cui non abbiamo mandato noi cioè è una cosa che ha istituito Gesù Cristo l'ha istituita per gli uomini non l'ha istituita per le donne punto quindi fare una dichiarazione di questo genere è ben diversa cioè dire non abbiamo noi la possibilità di cambiare questa cosa diversa questio invece è per gli omosessuali gli omosessuali che Francesco lo creda o non lo creda e sono più propenso a pensare che non lo creda ma questo è un problema suo che poteva risolvere con la sua psicologa invece di abbandonare le sedute psicoterapeutiche sbattendo la porta è che gli omosessuali sono uomini molte volte più uomini di altri e quindi forse c'è da ricordare al Papa che il Signore non ha mai detto che gli omosessuali non possono essere sacerdoti poi Francesco lo abbiamo visto anche nell'intervista a Vida Nueva ha un'idea tutta particolare dell'omosessuale innanzitutto si parte dal presupposto tanto su questo poi faremo sicuramente un altro intervento grazie agli interventi di questi sacerdoti che prima erano drogati e poi sono diventati preti grazie alle grandi gioie di Gioia Sia che sostanzialmente non è scritto da nessuna parte in primis come affermava Cencini e poi Cencini ha dato ovviamente la possibilità di seguire questo filone che è completamente antiscientifico e quant'altro e che ritroviamo anche nella razio ovvero non esiste nessuna evidenza del fatto che l'omosessuale sia affettivamente immaturo perché alla base di tutto c'è l'idea che questa è una forma malata e infatti Francesco parla subito dei malati accogliamo gli omosessuali perché accogliamo i malati e i buoni subito appensa ai malati chissà come mai e qui c'è il problema grande dei Gesuiti cioè i Gesuiti dove li troviamo lo troviamo infatti ogni volta che qualcuno dice ma hanno nominato padre spirituale a inseminare un Gesuita viene sulla pelle d'oca così perché è la fine cioè oltre al fatto che i Gesuiti pensano soltanto al sesso cioè loro si svegliano una mattina e pensano solo al sesso pensiamo ad esempio a quei promotori di giustizia che addirittura nei processi canonici riferiscono che un bambino un bambino un ragazzo non può dormire nello stesso letto di un prete senza farci nulla in che senso? cioè non è chiaro non lo so un ragazzo di 17 anni con un prete appena ordinato di 25 magari sono due amici che vanno in giro cosa ne so a farsi un viaggio non possono dormire nello stesso letto per risparmiare no per forza deve avvenire qualcosa in quel letto e qui c'è la questione della proiezione cioè è una cosa che io non farei mai ovvero io non dormirai mai nel letto con un uomo senza farci nulla allora anche gli altri devono agire come faccio io e questi sono i Gesuiti ce li abbiamo alla congregazione per la dottrina della fede oggi di Castello e quindi anche Francesco ha questa idea e lo abbiamo visto nella nell'intervista a Vida Nuova cioè innanzitutto l'omosessuale è uno che è stato cacciato dal seminario che quindi è immorale e che quindi è tradizionalista e quindi è contro questo pontificato e allora sono i cosiddetti rigidi ma allora Francesco ci dovrà spiegare come dobbiamo definire quei sessantottini che magari ce li ha i parroci il viceparroco se li ritrova in parrocchia e se il viceparroco non sia mai celebra la santa messa con le dita così oddio cioè succede il finimondo quando rientra in sacristia viene bullizzato allora questi cosa sono? i rigidi oppure sono gli abusatori di coscienza? no perché se si inizia a chiarire che questi sono veri e propri abusi di coscienza beh anche il santo padre avremmo molto da dire sulle sue tecniche manipolative e quant'altro quindi lo vediamo chiaramente e Francesco non riesce a dare una risposta anche in questa domanda domanda coraggiosa ma ci gira attorno perché Francesco è così Francesco era partito nei viaggi apostolici facendo credere che a lui si potevano fare qualunque domanda si potevano fare tutte le domande fatemi tutte le domande perché Papa Benedetto invece le controllava Giovanni Paolo II le controllavano io invece no fatemi tutte le domande allora questo non è vero innanzitutto perché i giornalisti non sono liberi di fargli le domande che voglio nonostante non è che avessimo non è che abbiamo dei giornalisti e anche in passato avessimo dei giornalisti chissà che cosa chissà che menti eccelse però anche quei pochi che magari vorrebbero fare domande appena appena più puntute non possono assolutamente farle se per caso qualcuno ci riesce e a Francesco non va a genio la domanda chiaramente lui ci gira attorno e qui ci gira attorno cioè fa un discorso dove dice ah ma perché poi ci vuole pazienza nel guidare allora gli omosessuali non sono pazienti cioè cosa dobbiamo desumere dalle tue dichiarazioni invece una risposta chiara dovrebbe essere beh l'omosessuale non può essere prete perché punto e spiegarci spiegarci la sua idea magari Francesco ci potrebbe dire che l'omosessuale è chiaramente un soggetto che abusa dei minori questa è un'evidenza scientifica nella testa di Francesco peccato che al di fuori di quella testa non c'è nessuna evidenza oppure ci potrebbe spiegare del fatto appunto che tutti gli omosessuali sono tradizionalisti e allora ci dobbiamo forse dobbiamo forse pensare e cercare di capire che perché questo è l'errore che ha fatto Cencini Cencini nella sua vita magari ha incontrato un omosessuale immaturo affettivamente e quindi poi dopo ha iniziato a dire gli omosessuali sono affettivamente immaturi senza rendersi conto che magari quella persona era affettivamente immatura ma non lo era perché era omosessuale lo era perché lo era punto quanti eterosessuali sono affettivamente immaturi uguale Francesco cioè Francesco si è ritrovato magari l'omosessuale tradizionalista allora tutti gli omosessuali sono tradizionalisti questo è un vero problema psicologico cioè assolutizzare e soprattutto non possiamo né pretendere che arrivi una valutazione teologica e né soprattutto psicologica da un perito chimico cioè ragazzi non scherziamo nel senso lo spirito santo questo lo diceva Ratzinger anche durante il conclave cioè lo spirito santo agisce ma agisce non è che si cala dall'alto arriva e ritocca le cose oppure nella testa di una persona inizia a smuovere cioè se la formazione è quella la formazione è quella quindi la cosa che io posso fare è dire certamente sono vittima dello spirito santo che veramente ci vuole coraggio a dire una roba del genere però allo stesso tempo sto zitto su determinati temi perché con la mia formazione da perito chimico probabilmente non riesco a spiegare al mondo che non è una questione di legislazione o di posti perché chiaramente ad esempio riguardo alla donna chiaramente una persona ti dice beh la legislazione si cambia invece cioè motivo per cui la chiesa ha portato avanti determinati dogmi per un sacco di tempo è proprio perché si è stabilito che quelle sono disposizioni divine perché giustamente se non arrivava quello di turno che ti diceva vabbè l'hai vinta tu la cambi se tu sostieni che quella è una cosa divina è chiaro che nessuno può metterci mano diverso invece è la questione sugli omosessuali ripeto qui sotto vi metteremo la parte di intervista perché poi è un'intervista lunghissima avida nuova su sugli omosessuali cioè sui preti rigidi dove lui praticamente fa chiaramente capire la questione degli omosessuali come ad esempio peraltro è una cosa che è uscita anche durante la GMG dove lui diceva ai giovani gli piace il football capito? Francesco forse non ha mai partecipato alla GMG da sotto cioè Francesco parla tanto di odore delle pecore parrocchie eccetera ma non l'ha mai fatte queste cose perché se lui fosse stato in mezzo ai giovani in questi giorni si sarebbe reso conto che queste sono le preoccupazioni dei giovani il fatto che Francesco ritenga che l'omosessuale possa essere ordinato preto oppure no cioè alla fine può anche fregarcene zero gli omosessuali sono stati ordinati in tutti questi anni da quando la Chiesa esiste senza alcun problema qual è la questione fondamentale è far sì che non ci sia invece una caccia alle streghe e questo porterà semplicemente a ordinare persone felici serene che magari si sono fatti il loro percorso di maturità perché appunto non hanno dovuto reprimere questa cosa nell'ottica di nasconderla al superiore di turno oppure dall'altro lato l'idea che invece bisognasse andare a scovare quello che secondo la mia idea sarebbe omosessuale questo è il problema perché il fatto che gli omosessuali vengano ordinati è un'evidenza è chiaro e giustamente la maggior parte si fa i fatti propri e sta zitto e tira avanti e ovviamente quando arriverà l'ordinazione sarà libero di fare quello che vuole però l'idea è proprio non far vivere il seminario in questo modo cioè come tempo di bolla da vivere passando in questo modo perché? perché abbiamo chiaro che ci sono moltissimi casi ma di eterosessuali come di omosessuali però è chiaro che l'eterosessuale cioè ad esempio se uno fa una battuta chiediamoci siamo alla GMG c'è una bella ragazza adulta matura e c'è il il macio di turno che vuol far vedere che è macio che dice ah ma quella è proprio una bella ragazza ecco se un seminarista fa un'affermazione di questo genere il rettore ovviamente non è che lo chiama e gli dice vabbè domattina te ne vai a casa no anzi è una forma per dire ah dai su se succede il contrario invece un seminarista che dice ah ma quello è proprio un bel ragazzo il giorno dopo si ritrova le valigie all'aeroporto di Lisbona se a Lisbona se no si ritrova altro e questa è un'evidenza inutile cioè poi abbiamo i laici che dicono ah ma questo è ciò che succede ci siete stati no benissimo se ci state è questa la situazione e sono pochissime le eccezioni quindi facciamoci una domanda cioè qui si vuole arrivare al punto di dire figlioli forse è il momento di far vivere la gente serenamente così si può vivere la vita della formazione gli anni di formazione che poi vabbè continuano sempre però soprattutto gli anni intensivi della formazione in modo sereno in modo che possano anche andare serenamente a un colloquio col padre spirituale o con lo psicologo e dire io non riesco a gestire questa relazione mi aiuti a gestire questa relazione punto senza avere la paura di dire questa relazione è con un uomo cioè in questo modo faremo sì che la gente è serena e tranquilla faremo sì che sia la gente ma la gente la maggior parte dei laici ci sono anche certe parrocchie dove i parrocchiani hanno fatto delle lotte per tenersi il loro parrocco nonostante fosse accusato ingiustamente di follie di natura ovviamente sessuale e la gente non ne frega niente la cosa che alla gente dà fastidio quando la gente quando il prete ruba soldi e effettivamente hanno ragione questa è una questione che dà fastidio altro no ma questo è un'evidenza cioè arrivare al punto di dire basta guardare le mutande della gente e a francesco questo dà fastidio perché perché tutto il suo sistema si è basato su questo cioè la gente che è uscita e che è entrata dal vaticano la gente che è stata sbattuta fuori dall'oggi al domani la gente sul quale lui ovviamente ha fatto ciò che voleva lo ha fatto sulla natura proprio del chiacchiericcio come lo chiama lui o sull'altare dell'ipocrisia come ha detto nei confronti di qualcun altro e quindi se tu gli levi questo giocattolo gli levi tutto e lo levi a molti altri che giocano su questo e continuano a dire oh gli omosessuali eccetera e addirittura anche durante la GMG c'è stata una celebrazione dove hanno partecipato omosessuali che poi anche queste cose qua sono cose che io non comprendo cioè nel senso certamente visto il clima ci sta però è come la questione dei locali o cose di questo genere cioè bisogna arrivare come si fa in realtà normali e civili come il Canada cioè la gente vive insieme non si ghettizza da sola e non viene ghettizzata dagli altri punto cioè io non è che devo fare la messa per i neocatecumenali la messa per quelli la messa per quegli altri si sta tutti insieme utunum sint no? gente che va a sbandierare questi motti presi dal Vangelo ma bisogna essere uniti in tutto veramente e quindi nel momento in cui ci si vede un omosessuale che poi non riesco a capire da cosa lo individua un soggetto ma comunque venire in parrocchia sono gli stessi laici che non devono insultare o comunque discriminare e criticare e chiacchierare su quella persona a questo bisogna arrivare e quindi forse la riflessione bisogna poi portarla avanti ancora ma queste parole di Francesco ancora una volta ci dimostrano come Francesco innanzitutto non ha alcuna preparazione teologica neppure per spiegare le cose fondamentali ma va bene e poi lui si mette a dire che i giovani non seguono le omelie troppo lunghe eccetera i giovani ti seguono anche un'ora voi pensate a quei giovani che pullurano così gli incontri di Alessandro Barbero ne cito uno per dirne molti quanto tempo parla Barbero? un'ora due ore ma perché? perché è interessante è chiaro che se tu ti metti a parlare dei giovani dell'ecologia e di questo e di quell'altro i giovani dopo due minuti si mettono a guardare il telefono ma perché? perché sei tu che sei non interessante non è che sono loro che sono disattenti questo è il grande problema e quindi la riflessione su questo tema dovrà essere portata avanti e non si potrà più ritenere che queste qua sono tematiche assurde o cos'altro queste sono tematiche quotidiane cioè c'è gente che ha visto la propria vita rovinata per chiacchiericci di questo genere e soprattutto lui ha fatto riferimento in questa intervista a vita nuova a tutte quelle realtà seminaliali che accoglievano non accoglievano generalizzando in una maniera impressionante e chiaramente è il discorso che stava dietro a tutto il suo intervento sulla diocesi di Frégiù Stoulon ma non si è reso conto forse che determinati preti che lui ritiene immorali sulla base non si sa che cosa probabilmente lui ha verificato nel letto di queste persone non si sa hanno salvato intere parrocchie hanno salvato intere diocesi dalla morte completa che avevano portato i suoi amici sessantottini quindi forse è il caso di preoccuparsi di più su che cosa fa il prete dal punto di vista pastorale ministeriale e un po' meno di cosa fa il prete all'interno delle proprie mutande a Grazie a tutti.